Buongiorno a tutti, mi chiamo Igor Romano, ho iniziato la mia carriera di insegnante d'inglese qui all'Università Popolare circa 20 anni fa. Quest'anno affronterò con voi il corso A1, si tratta di livello successivo al corso base per principianti. Vi aspetto numerosi e vi auguro buon lavoro. Grazie a tutti.